Cari amici, bentrovati su Grandangolo. Oggi parliamo di un argomento di stretta attualità come ricostruzione in Ucraina. Un argomento che sui giornali italiani e su quelli internazionali occupa tantissimo spazio. Dalla community ci si chiede ma per quale motivo si parla di ricostruzione anzitempo? Beh, noi per dare una risposta ad Albert che ci ha posto questa domanda, cercheremo di analizzare velocemente l'argomento per trovare delle risposte e trovarle insieme. Ricostruzione fa rima con speculazione. Questo perché il rischio che ci sia una speculazione economica è fortissimo. Ma gli scogli non sono soltanto di natura meramente numerica, ma anche sotto il punto di vista giuridico. Tanto che l'ipotesi di riuscire a espropriare i beni russi, che poi sono per la maggior parte all'interno dell'Unione Europea, e usarli a mo' di risarcimento per quello che è stata la guerra in Ucraina, non è di facile riuscita. Questo perché c'è una matassa di problemi giuridici che lo rendono impossibile. C'è poi un altro punto di vista che è quello più pratico, cioè il fatto che stiamo parlando di una guerra in corso, un salto in avanti del genere, non tiene conto di tutto quello che può succedere quando le cose sono fatte in media stress, cioè con una guerra che ancora non è finita e di cui non si sa bene quale sarà l'epilogo. L'ambito economico resta quello di più stretta attualità. L'Italia ha appena organizzato una conferenza internazionale con il ministro degli esteri ucraino Kuleba, la Polonia organizzerà il prossimo novembre una seconda conferenza, nel frattempo tantissimi paesi hanno messo gli occhi sulla torta della ricostruzione, anche paesi extraeuropei come gli Stati Uniti o la Cina, e anche perché comunque questo è una sorta di mini piano Marshall che ha un volano economico esponenziale. Cominciamo parlando della Cina. La Cina ha un interesse fortissimo nel paese intanto perché è il primo partner commerciale anteguerra. 18 miliardi di interscambio lo resterà anche quando finirà la guerra. In più la Cina si presenta in questo ruolo di mediatore, facilitatore, quindi è chiaro che ha interesse a dettare il suo gioco e cercare in qualche modo di preservare quelli che sono i suoi interessi all'interno del paese. Ci sono poi un'altra serie di paesi europei, come ad esempio la Polonia che ha appetiti inconfessabili. Io ne ho parlato in questo video, ve lo linko quello che voleste approfondire. La Francia e la Germania, che non solo sono i leader della politica de facto di tutto il continente, ma anche a livello economico hanno un peso fondamentale. La Germania soprattutto è il paese che ha pagato più di tutti i contraccolpi e gli effetti collaterali dello scoppio della guerra. È chiaro quindi che stiano cercando in qualche modo di rifarsi. Certo, il nodo speculativo, per tornare poi alla risposta principale, è un nodo che riguarda anche dei fondi di investimento internazionali, come il celebre fondo di investimento BlackRock, per cui lo scoppio della guerra è stato una sorta di win-win. È molto cinico ma tiene conto della realtà dei fatti. BlackRock ha delle partecipazioni in società che si occupano di difesa, Leonardo, e si trova poi ad avere investito il suo portafoglio anche in altre società. Leidelberg Sement, una società leader nella produzione di cemento per quanto riguarda le infrastrutture, che è di nazionalità tedesca. Quindi quando finirà la guerra ci sarà comunque un guadagno sotto ogni punto di vista, perché ci sarà necessità di cambiare quelle che sono le risorse da inviare a un paese che sta subendo un'aggressione da più di un anno. Quindi per tornare alla domanda di Albert, perché se ne parla? Intanto perché la stampa deve dare una sorta di giustificazione di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, e poi perché per capire le ragioni politiche che stanno dietro allo scoppio di una guerra non ci sta soltanto la propaganda, ma anche quel fil rouge che è conosciuto come il denaro, che è alla base di tutto e del motore immobile, praticamente di tutto ciò che succede nel mondo. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, abbiamo affrontato l'argomento molto velocemente, fatemi sapere se siete d'accordo con questo punto di vista nei commenti qui sotto. Da Grandangolo è tutto, Guglielmo.